Onorevole Tattarella, in Italia c'è grande allarme, grande opposizione all'ipotesi di trivellazione in Adriatico. Voi cosa state facendo? Sull'argomento bisogna muoversi soprattutto in campo nazionale perché la competenza è nazionale. Comunque anche a livello europeo io ho già presentato una interrogazione per tentare di fermare queste autorizzazioni che ripeto sono autorizzazioni nazionali. All'interno anche di una risoluzione che è stata approvata di recente e che riguarda proprio la ricerca degli idrocarburi offshore abbiamo inserito un nostro emendamento con il quale si impediscono le perforazioni in un raggio di 80 km da una riserva naturale. Le tre emiti sono una riserva naturale e quindi in questo caso si può almeno allontanare la minaccia. Non si può però tirare un sospiro di sollievo? No, un sospiro di sollievo no. Occorre un'azione molto forte degli organismi, dei partiti, della cittadinanza italiana estendendo l'impegno a tutte le regioni che si affacciano sull'Adriatico e anche alle altre nazionalità. Quindi non solo le regioni italiane ma anche quelle dell'altra sponda. Perché come lei sa il mare Adriatico è un mare molto stretto, è quasi un lago ed eventuali incidenti potrebbero avere conseguenze molto gravi su tutto il mare.